Elezioni regionali, possibili alleanze, ma anche la scelta della Segreteria Nazionale. Il PD si prepara ad affrontare temi cruciali che rappresenteranno la svolta per il partito. Due punti emersi dall'Assemblea regionale che si è svolta a Campobasso, nel corso della quale è stata dettata la linea. Il Partito Democratico, soggetto capace di guidare le alleanze verso le regionali, partendo dal rilancio che verrà fuori dal congresso già avviato. Ma non ci sarà nessuna sudditanza a nessuno, è stato ribadito nel corso dei lavori. Il segretario regionale Vittorino Facciolla ha chiesto all'Assemblea di confermare un documento proposto dalla direzione per aprire le trattative su tutti i fronti in vista del voto. In primo piano l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, su cui in queste settimane si sta animando il dibattito politico locale. Il messaggio indirizzato ai pentastellati è stato chiaro, il PD non ha bisogno di lezioni di sinistra da nessuno. Benvengono dunque le alleanze, ma con rispetto reciproco, contro ogni OPA nazionale o locale lanciata al campo progressista. Abbiamo una storia, abbiamo un futuro, è stato ribadito con fierezza nel corso dei lavori, da cui è emersa la linea comune di chiedere le primarie di coalizione. Nessun veto e nessun diktat è stato detto, la partita è appena iniziata, febbraio, un mese importante e i gazebo per scelere la segreteria nazionale. Il PD si dice pronto.